Buongiorno, il lavoratore dipendente pubblico privato a cui sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave ha diritto ad essere trasferito alla sede di lavoro più vicino al suo domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso. Lo stesso diritto vale per il familiare che assiste il lavoratore con handicap grave. Per quanto riguarda il lavoro notturno, il lavoratore malato di cancro può chiedere di non essere assegnato a turni di notte, stesso beneficio anche per il familiare di un lavoratore con handicap grave. Il malato di cancro che desideri continuare a lavorare dopo la diagnosi e durante i trattamenti può usufruire di forme di flessibilità per conciliare i tempi di cura con il lavoro, come ad esempio il tempo parziale, part time o il telelavoro. Anche il familiare ha la precedenza nella richiesta del lavoro a tempo parziale. I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche. I permessi e i congedi sono i seguenti. Permessi lavorativi ai sensi della legge 104 del 1992 usufruibili anche dai familiari. Permessi lavorativi per eventi e cause particolari di cui alla legge 53 del 2000. Congedo per cure agli invalidi. Congedo straordinario biennale retribuito. Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari. Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità sia il lavoratore con disabilità sia il familiare che lo assiste possono usufruire di permessi retribuiti con i seguenti limiti. Per il lavoratore con disabilità ha scelta due ore giornaliere o tre giorni mensili. Per il familiare tre giorni mensili a condizione che la persona ad assistere non sia ricoverata a tempo pieno salvo casi eccezionali. I permessi per il familiare che si prende cura del malato possono essere fruiti da un solo lavoratore dipendente e i permessi lavorativi possono essere richiesti anche per assistere un familiare portatore di handicap che vive lontano dal luogo di residenza del lavoratore. La domanda deve essere presentata all'Inps esclusivamente per via telematica allegando la certificazione medica che vi darà il vostro medico curante di base. Potete fare da soli se siete già in possesso del codice PIN dell'Inps oppure avvalervi di un consulente del lavoro o di un patronato. Per poter inoltrare la richiesta dovete già essere in possesso della cartella medica dell'ospedale con l'esame istologico e del certificato medico o della richiesta del vostro medico curante. Una volta ricevuta la richiesta in circa due settimane l'Inps vi inviterà a un colloquio per le verifiche prima di confermare lo stato di invalidità. Per gli altri permessi validi anche per i familiari rimando all'articolo per iscritto. Vi ringrazio per essere stati con me in questa parentesi dedicata ai diritti dei lavoratori. A presto. Grazie a tutti.